Ecco, il materiale dovrebbe essere corretto, nel senso che questo materiale dovrebbe essere un materiale tale per cui questa completazione che viene per il calore, adesso vediamo come, dovrebbe andare a pubblicare, può bisogno del tuo aiuto. E in realtà, come funziona? Sì, è importante. Come funziona? Sono queste coppette, che poi dall'altro riconosco, potrete pensare la grazia avversale, non si dice che sa, in questo contesto possiamo dire, ma funziona, vale, funzioni veramente. L'importante cosa è prendere questi oggetti qui, foggiati in questo modo, e una pallina per volta, ovviamente qui è del sole, non è più caldo, foggiati su sedere dei bicchieri, pare che semplicemente coprendo, in questo modo, e riscaldando un po' le mani, in questo modo, e pressando qui, dovrebbe penetrare. penetrare sul tavolo, quindi tre braccia da arrivare. Io vi ripeto, la prima volta lo provo davanti a voi, vediamo cosa succede, effettivamente, con una pallina, diciamo, è andato tutto a confine, ma la cosa potrebbe continuare, perché potremmo trovare, ad esempio, una cosa superficie, cioè con due elementi, con due superfici, è un po' più complesso. con due dimensioni, con due dimensioni, con due dimensioni, allora, a questo punto però abbiamo due superfici da dover attraversare, quindi, proviamo sempre a scaldare un po' le mani, ecco i giorni, uno, dovremmo essere al secondo picchiette, due, tecnicamente, quando le palline c'erano sotto prima, uno, se l'esperimento è andato a confine, e fino a qua, nulla, nulla, nulla. Ora, se copriamo questa ultima pallina, e nuovamente tentiamo l'esperimento, in questo modo, dovremmo ottenere lo stesso risultato, lo sappiamo, scaldiamo in po' le mani, pigiamo, uno, due, e dovremmo, quindi, effettivamente, a te e te, palline, quindi, fino a te. Direi che è un ottimo risultato, sì o no? Allora, adesso, facciamo l'ultima cosa, in questa realtà, pare che addirittura, vieno digitale, perché collegarci un po' a questo discorso del marketing online, funzioni anche questo, cioè, se facciamo, vedete, c'è una pallina che, appunto, è un po' mazzicolo, se la prima mi fa scendere, però non ti dà nulla per fuori, perché se la prima mi fa scendere, metto la pallina, grazie a te, un attimo, attenzione, attenzione, provate, aspetta, sento la pallina, un attimo, ok, fare che digitalmente, addirittura, si possa riuscire a fare una cosa, come ti chiami? Giovanni, Giovanni, vieni qua un attimo, ok, una cosa a Giovanni, qui c'è la pallina che mi fai, chiudi, ok, attenzione, tiena, adesso, io copro questo, pego per fuori, toggi la pallina qui, così, lasciala, ok, grazie, pigia, 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 ok, perfetto, poi lo che fai, tutto tu? Alza, tutte e due, i cucchiainini, oh, great! chi di voi ha il meno come mai succede questo? se volete vi ringrazio per la collaborazione perché se volete vi rendete conto e vi faccio vedere sul tavolo e vi faccio vedere il vostro posto e vi faccio vedere il vostro posto